Per me ogni droga è merda, per me la droga è morte, non ci sono droghe buone, non ci sono droghe simpatiche, non ci sono droghe che fanno bene, anzi, nel codice della strada, e lo dico ai giornalisti perché questa è una notizia di mezz'ora fa, che arriverà finalmente in aula del Parlamento il primo di marzo, ho previsto e l'ho scelto da ministro e da papà il ritiro della patente per chi viene trovato alla guida drogato, perché drogarsi è da coglioni, mettersi alla guida da drogati è da doppi coglioni. Non c'è droga buona, non c'è droga permessa, chi spaccia droga vende morte.